Benvenuti su Gossip di Iva. Se amate Scoop, Pettegolezzi e tutti i retroscena delle vostre trasmissioni preferite, siete nel posto giusto. Iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi nessun aggiornamento. A volte ritornano, nella puntata di Uomini e Donne andata in onda giovedì 10 ottobre. Valerio ha fatto un inaspettato ritorno in studio dopo il clamoroso schiaffo ricevuto da Gemma. Nonostante le recenti scintille tra i due, il cavaliere ha deciso di rientrare per scusarsi. «Sono dispiaciuto per le cose che ti ho detto. Erano parole dette in un momento di nervosismo», ha spiegato. «Ma Gemma non è sembrata troppo convinta. Mi hai detto cose bruttissime», ha ribattuto, seppur accettando di ballare con lui. Accompagnato da Gianni Sperti, Valerio ha cercato di chiarire, chiedendo scusa alla dama torinese per tutto ciò che era successo. Tuttavia Gemma ha ancora delle riserve. «Mi hai ferita profondamente, ma ho sbagliato anche io a tirarti uno schiaffo. Non è da me». Il tutto è nato da una tensione esplosiva tra i due, quando Valerio si era rifiutato di dare il telefono a Gianni per chiamare la sua amica sudamericana, Maria, scatenando la gelosia di Gemma. «Tra i due c'è sempre stato un rapporto un po' ambiguo, fin dai tempi del famoso video in cui erano stati visti insieme mentre acquistavano la biancheria intima di Gemma». E Valerio, pur non volendo cedere il telefono, ha ammesso di avere avuto altre frequentazioni fino a pochi giorni prima, ma ha lanciato una frecciatina. «Anche tu, Gemma, prima di uscire con me ti sentivi con un altro». La dama, nonostante tutto, ha preso tempo per riflettere. «Ho bisogno di un attimo per decidere». Il momento clou arriva quando Valerio le propone di ballare sulle note di «Il paradiso» di Patti Pravo. Gemma, con la sua solita ironia, gli risponde «Ma quale paradiso? Questo è l'inferno!» Ma poi accetta l'invito. Sembra che tra i due si sia fatta pace, o no? E voi cosa ne pensate di questa riappacificazione? Scrivetelo nei commenti e non dimenticate di iscrivervi per restare su tutti i gossip di Gossip Diva.